C'è un trenino qui in città, dove andrà? Non si sa, nei vagoni cosa avrà? Il trenino. Leo aspetta, lui lo sa, che di qui passerà. Un trenino viaggerà per la via. Un carro attrezzi, lui vedrà, passerà per di là e una casa porterà il trenino. Un pulmino è pronto già per portare chi vorrà divertirsi e poi scherzare al parco giochi. Quando tutto finirà, il lavoro finirà. Tutti a casa torneranno, sì, felici. Il trenino viaggerà per la via. Il trenino viaggerà per la via. Il trenino viaggerà per la via. Il trenino viaggerà per la via.